Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare tutti quanti in questi giorni, in queste settimane, ci hanno scritto chiedendo notizie sui diversi concorsi fermi da parecchio tempo, troppo tempo, e che adesso finalmente si stanno riattivando. Volevo fare una piccola premessa. Il Formez per lavorare ha bisogno di tre elementi. Le norme, le forniture dalle sedi al protocollo Covid, alla tecnologia, e ha bisogno di raggiungere un accordo, di negoziare e di discutere con le amministrazioni committenti, le quali sono, se vogliamo, le vere proprietarie delle procedure, in quanto decidono quali profili vogliono, le modalità con cui vogliono fare la selezione e così via. Grazie a questa collaborazione noi poi siamo in grado di portare a termine un concorso. Detto questo, volevo dare delle anticipazioni di alcuni concorsi che stiamo programmando proprio in questi giorni. Il Ministero della Cultura, addetti alla vigilanza e all'accoglienza, lo stiamo programmando per il mese di luglio, probabilmente la prima parte. Il Ministero degli Interni avvio la carriera prefettizia, sempre per il mese di luglio, probabilmente invece nella seconda parte. Il concorso Ambiente Ripam per il mese di settembre, il concorso per il Ministero della Giustizia per i funzionari giudiziari per il mese di ottobre. Non abbiamo ancora le date precise, però questi sono i periodi su cui stiamo lavorando, non appena avremo le date precise e le sedi ve le comunicheremo, quanto prima. Grazie e buona giornata.